Buonasera e benvenuti a tutti a questo primo appuntamento, questo primo incontro che come Informa Giovani dedichiamo al tema della scelta scolastica. Mi presento anzitutto, sono Stefania e sono un'operatrice dell'Informa Giovani del Comune di Novate Milanese. Questa serata ormai da anni rappresenta per il nostro servizio per l'Informa Giovani il primo tassello di quello che è il nostro progetto orientamento, un progetto che si estenderà dopo questa serata con l'evento di Campus e che ogni anno in questo periodo un pochino cerca di essere per le famiglie e per i ragazzi uno strumento di aiuto e di conoscenza di tutte quelle che sono le cose che intervengono nel momento in cui si arriva al punto di dover scegliere la scuola superiore. Prima di iniziare questa serata che avrà come nucleo centrale proprio mettere a conoscenza tutti voi di quelli che sono i percorsi di istruzione dopo la scuola media, prima di dare via questa serata lascio la parola all'assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Innovate, Patrizia Banfi. Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata inaugurale di Campus. Anche quest'anno l'amministrazione Informa Giovani hanno voluto riproporre a ragazzi e famiglie questo importante evento per l'orientamento rispetto alla scelta della scuola superiore. Vi porto il saluto dell'amministrazione e anche del sindaco che questa sera per problemi non ha potuto essere presente ma che voleva farvi aggiungere sicuramente il suo saluto. Perché cos'è Campus? Campus è un percorso di orientamento informativo ma anche formativo che offre appunto un supporto a ragazzi e famiglie nell'importante scelta della scuola superiore. Mi piace usare un'immagine per questo percorso e io lo definirei come un viaggio di scoperta. Un viaggio di scoperta, la scoperta di sé e delle diverse realtà scolastiche per proseguire il proprio percorso di crescita. Non è facile scegliere una scuola superiore, non è facile per scegliere i ragazzi perché per la prima volta sono chiamati a decidere in prima persona e a essere protagonisti della scelta e per decidere devono incominciare a riflettere sulle proprie peculiarità, sui propri interessi, su cosa preferiscono e su come immaginano il loro futuro. Sicuramente sarà un futuro che l'immagine del loro futuro cambierà, evolverà, ma è proprio in questo momento che cominciano a immaginare il futuro, di che cosa vorranno fare. Non è facile neanche per le famiglie perché le famiglie devono accompagnare i loro figli nella maturazione della scelta più opportuna e devono rapportarsi con un'offerta formativa che è articolata e complessa, che spesso è molto diversa da quella che hanno conosciuto da ragazzi quando erano studenti e quindi necessitano sicuramente di un aiuto, di un supporto per potersi orientare al meglio. Allora io concludo questo mio breve saluto augurando a tutti un buon viaggio di scoperta perché ognuno possa scegliere un percorso di studi in cui possa realizzare le proprie aspettative, i propri desideri. Buona serata a tutti. Grazie, grazie Patrizia e prima di introdurre i relatori mi presento anch'io, sono Roberto Radice e sono anche un operatore dell'informa Giovanni di Innovate. Vi dedico solo davvero due minuti a Campus, a quello che inizia oggi Campus con questo incontro e poi da sabato 23 ci saranno appunto le scuole che inizieranno a presentarsi. Quest'anno il Campus appunto è ancora interamente online e ci sono ben 58 istituti superiori che saranno presenti. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.campusnovate2021.com Quest'anno abbiamo voluto fare anche le cose in grande appunto e dedicare un sito a questa iniziativa. Oppure andate anche sulla pagina istituzionale del Comune di Innovate Milanese e anche lì trovate tutto il programma con le scuole, i link per collegarsi agli incontri con le scuole e tutte le scuole suddivise per indirizzi, tutte le scuole presenti. Bene, io non mi dilungherei oltre, l'ultima cosa che vi dico, le domande ai nostri relatori le potete fare in chat scrivendo a noi e noi le porremo a loro in forma verbale, quindi se durante l'incontro vi vengono le domande mandatele pure, scrivetele senza problemi. Introduco i relatori che sono oramai i nostri fedeli compagni di questa iniziativa, li ringraziamo, sono Maria Grazia De Maria che è professoressa e ora lavora all'ufficio scolastico regionale e professor Giorgio Santini che parlerà dopo Maria Grazia, docente del primo Levi di Bollate. Li ringraziamo per la loro disponibilità, per la loro competenza che siamo certi che assaporerete, gusterete, apprezzerete e davvero grazie ancora, benvenuti, vi lascio il posto. Ti condivido già lo schermo così. Eccola qua. Sì, sì, Giorgio se vuoi. Un attimo che condividiamo lo schermo, scusate. Sì, sì. Arriviamo, eh. Ok. Da subito, prego, accomodatevi. La presentazione lo lascio così. Vediamo se va, eh, un attimino che... Non va la presentazione, come mai? Inizia da una prima, non lo prendo. Allora, visualizza. Se vuoi iniziare a dire due cose ci provo io. Scusate. Buonasera a tutti e benvenuti, vi ringrazio di essere qua questa sera. Allora, con questa serata, ma probabilmente non è questo il momento corretto, sarà già successo nelle case, nelle famiglie, di cominciare a pensare al che cosa faccio l'anno prossimo. Eh, probabilmente siete in terza media e quindi questo problema diventa pressante perché, come ogni anno, poi a gennaio dovrete provvedere a fare la vostra scelta. Eh, mi occupo, vediamo se ce la facciamo a condividere i lucidi, se no, eh, vi tocca... Eccoci qua. Ok, perfetto. Benissimo. Allora, stavamo dicendo, dovrete preoccuparvi di fare questa scelta e bisognerà cercare di fare la scelta giusta, no? Nel senso, perché poi adesso vedremo che cosa vuol dire fare una scelta, ma soprattutto io voglio sottolineare una cosa, intanto ritenete l'opportunità di poter fare delle scelte come una grande fortuna. Allora, ricordatevi che ci sono persone che non possono scegliere, allora il fatto di poter scegliere è già un aspetto estremamente positivo. Ma soprattutto, eh, abbiate la consapevolezza che state facendo una scelta. Quindi, state decidendo che cosa, eh, vorrete fare da grandi, che cosa i vostri figli potranno fare da grandi, e se la scelta è fatta in modo consapevole, eh, questo ci dà la forza per portarla avanti. È importante che la vostra scelta, davvero, sia fatta consapevolmente. Poi, uno fa degli errori, ci mancherebbe, non è che dobbiamo partire dal presupposto, però il non scegliere è una rinuncia a priori. Eh, cercate davvero di raccogliere tutte le informazioni che potete in modo da fare una scelta. E questo è, in qualche modo, mh, questa mia introduzione, il ferruccio di questa mia introduzione. Che cos'è una scelta? Allora, sono andato a recuperare la definizione che viene riportata sul dizionario Trecani. E, come vedete, ve l'ho divisa, no? In alcune frasi. È un libero atto di volontà. Quindi, è qualcosa che uno fa liberamente, eh, per cui tra due o più offerte, proposte, o possibilità, o disponibilità, cioè, avendo a disposizione la possibilità di individuare, mh, mh, prospettive diverse, eh, dichiara di preferirne una, ok? O, vabbè, se ha la possibilità anche più di una, ma nel nostro caso, non possiamo fare due scuole contemporaneamente, vietato dalla legge, per cui dovete pensare già di farne una. Ma perché individuate, mh, decidete di seguire quella strada, ok? Perché la retenete quella più adatta o più conveniente per voi. Quindi ci deve essere una ragione per cui voi decidete di intraprendere un certo percorso scolastico, anziché un altro. E adesso poi vedremo quali possono essere le ragioni. Quello che, eh, viene riportato nel riquadro successivo è che la decisione di individuare un percorso, anziché un altro, viene fatta sulla base di alcuni criteri. Criteri che possono essere oggettivi o personali di giudizio, ok? Poi è vero che qualcuno può anche fare una scelta, ma sull'onda dell'entusiasmo, eccetera. Però facciamo attenzione. Quindi vedete quanti modi diversi avete per poter fare la scelta. Dobbiamo trovare il modo giusto perché la nostra scelta sia quella più opportuna veramente per noi. Resta il fatto che comunque prendere una scelta significa decidere. E decidere significa, è una cosa che molto spesso non si vuole fare, perché prendere una decisione significa anche assumersi la responsabilità di quella decisione. Cioè, quando i ragazzi venivano a dirmi, eh prof, ma io faccio questa scuola per, che l'ha deciso mia mamma, mia zia, mia sorella, non va mica tanto bene, eh? Cioè, allora ci facciamo consigliare, poi prendiamo una decisione e quella decisione è la nostra e ci assumiamo la responsabilità di portarla avanti. È difficile scegliere. Sicuramente è difficile scegliere ed è tanto più difficile scegliere quante più possibilità abbiamo. perché non a caso ho messo la foto della vetrina di un pasticcere, no? Nel senso, se voi dovete scegliere, avete a disposizione una somma di denaro limitata e anche una capacità di poter mangiare limitata, ok? E avete davanti questa vetrina, è il scegliere di prendere la focaccia, lo sfilatino che trovate qui in fondo. Significa rinunciare a tutto il resto. Questa è la grossa difficoltà delle scelte oggi. Non che cosa prendiamo, ma la consapevolezza che decidere di fare una determinata cosa significa rinunciare a tante altre. Questa è la nostra fortuna, perché come vi dicevo all'inizio, siamo fortunati perché possiamo permetterci di scegliere. Però è anche una grande responsabilità, perché nel momento in cui scegliamo, rinunciamo a tanto. Quindi condivido con voi il fatto che sia abbastanza complesso, no? Quello che stiamo affrontando in questo momento. Ed è per quello che vogliamo darvi una piccola mano, no? Proprio per avere degli elementi che vi possano supportare. Allora, per scegliere la cosa più importante da fare è quella di provare a fare una tabella in cui riportare quelli che sono i costi e i benefici, i costi e i benefici di quella scelta. Perché? Perché mettere per iscritto aiuta sempre a sistematizzare. Ok? E poi vi aiuta a riflettere. Quindi, che cosa vuol dire per me scegliere una determinata scuola anziché sceglierne un'altra? Tutti gli elementi che volete considerare. La vicinanza a casa, il fatto che ci vada il vostro compagno preferito, il fatto che sia la scuola che vi porta alla professione che voi avete sempre sognato di fare. tutti gli elementi in positivo e in negativo, ovviamente. Allora, gli elementi li dovete elencare in modo oggettivo. Più ne riuscite ad inserire, più state facendo un'analisi corretta che vi porterà, che vi aiuterà a fare la vostra scelta. Quindi, una volta però che avete fatto questo elenco oggettivo, poi dovrete dare a ciascuno di questi elementi un peso ok? Perché non pesano tutti uguali. Perché il fatto di scegliere la scuola vicina a casa e rinunciare alla carriera che avete sempre sognato, beh, insomma, non credo che abbiano lo stesso peso. Soprattutto in una logica prospettica. Magari oggi vi fa più comodo stare, essere vicini a casa e alzarvi un'ora dopo, però siete a una scelta che condizionerà comunque tutta la vostra vita. e quindi un pensiero anche a più lungo termine si rende necessario. Non potete pensare solo al qui ed ora come è molto diffuso. E quindi vi dicevo, valutare bene i pro e i contro della scelta con un elenco e dei pesi. Da dove partiamo? beh, io consiglio sempre di partire da voi. Cioè, vi dovete fare delle domande. Probabilmente queste domande ve le hanno già poste, ve le hanno già poste i vostri insegnanti delle scuole medie quando attraverso il percorso di orientamento hanno cercato di farvi riflettere su chi siete, quali sono le vostre, i vostri talenti, quali caratteristiche avete. ognuno di noi è diverso dall'altro e ognuno ha dei talenti che deve imparare a riconoscere e se possibile imparare a utilizzare al meglio. Magari rendendoli la base della propria professionalità. Quindi, chi siete e come vi vedete da grandi, cosa vi piacerebbe fare da grandi, quali talenti e quali volete sviluppare in modo professionale. Queste sono tre domandine facili facili tra virgolette che dovreste cominciare a porvi. Non è facile dare la risposta per l'amor del cielo, però fateci un pensiero, magari una risposta vi viene anche. Allora, vediamo se riesco a cambiare se è bloccato tutto. Ah, ecco qua. L'aspetto importante è che voi scegliate in positivo. Questa è una raccomandazione che io faccio sempre. Non scegliere, cosa vuol dire scegliere in positivo? Non scegliete le cose contro. Non io non vado lì perché c'è quell'altro. Ok? Le scelte le dovete fare perché vi danno un plus, non perché non vi piace qualcosa. Non so se mi sono spiegata. Quindi partite sempre da che cosa mi dà di più rispetto a una scelta alternativa a questa situazione. Quali sono le possibilità? Adesso entriamo un pochino più nel tecnico poi riprenderemo. Allora quali sono le possibilità che avete alla fine della terza media? Noi abbiamo due canali all'interno del sistema scolastico italiano. Abbiamo il canale dell'istruzione scolastica e il canale dell'istruzione formazione professionale. Il sistema dell'istruzione prevede tre tipologie di percorsi i percorsi liceali l'istruzione tecnica e i percorsi dell'istruzione professionale mentre il sistema dell'istruzione formazione professionale prevede in esito due tipologie di titoli di studio la qualifica dopo i primi tre anni e il diploma professionale alla fine del quarto anno. vediamo se riesco perfetto allora che cosa differenzia questi percorsi? Tutti conoscete sicuramente i percorsi dell'istruzione il sistema dell'istruzione infatti è un sistema normato a livello nazionale è tra virgolette uguale in tutta Italia ok e ha una durata definita di cinque anni a parte qualche sperimentazione sui percorsi quadriennali però l'aspetto ordinamentale prevede una durata di cinque anni e vi rilascia un diploma un diploma che corrisponde a un quarto livello EQF annotatevi questa cosa lo riprendiamo nella seconda parte del dei miei interventi mentre invece per quanto riguarda il sistema dell'istruzione e formazione professionale questa è normata a livello regionale perché vi sto dicendo questo perché se vi siete trasferiti da poco o se conoscete bene un sistema di un'altra regione potreste non ritrovarvi e quindi avete bisogno di approfondire questa conoscenza la conoscenza di questi percorsi focalizzata in regione Lombardia come vi ho detto la durata è di tre o quattro anni e al termine del terzo anno avete una qualifica che è terzo livello EQF e al termine del quarto un diploma che è quarto livello EQF bene allora con questa introduzione adesso passo la parola al professor Santini che farà un approfondimento rispetto a quelli che sono i percorsi liceali e i percorsi tecnici e io riprenderò invece per darvi delle informazioni aggiuntive sull'istruzione professionale e sull'IFP grazie ci spostiamo di qui in pausa la condivisione scusami grazie grazie buonasera a tutti grazie ovviamente dell'invito anche quest'anno sono lieto di essere qui all'informa giovani di Novate e contribuire insomma con la professoressa De Maria a dare qualche piccola indicazione utile per quello che è un momento sicuramente molto delicato che i ragazzi insieme alle proprie famiglie stanno vivendo io sono un insegnante di letteratura italiana al primo Levi di Bollate e mi occupo da alcuni anni delle attività di orientamento e coordino l'attività dei altri docenti che in questo campo lavorano insieme a me per cercare di mettere le famiglie insieme ai loro ragazzi nella condizione di fare una scelta il più possibile oculata e come diceva prima la professoressa De Maria responsabile perché sicuramente la difficoltà che le famiglie si trovano ad affrontare insieme ai ragazzi è legata a dare una risposta una risposta molto semplice che però nella sua definizione è piuttosto complessa cioè quale scuola scegliere e come farlo cioè come possiamo stabilire qual è la scuola migliore rispetto alla quale trovare realizzazione e soddisfazione e arrivare magari a quegli obiettivi che diceva prima la professoressa De Maria la scelta è difficile perché spesso ci troviamo di fronte a due tipologie di scuola che sono per certi aspetti antitetiche e nello stesso tempo risultano accattivanti cioè esistono due scuole che sembrano in qualche modo rappresentare due realtà opposte qui ho cercato magari di individuare alcune parole chiave che possono rappresentare questa apparente contrapposizione c'è una scuola competitiva e c'è una scuola collaborativa c'è una scuola che ci appare severa e c'è una scuola che ci appare comprensiva c'è una scuola che vorremmo esigente ma nello stesso tempo pensando ai nostri ragazzi ai nostri figli la vorremmo anche accogliente c'è una scuola che si presenta con una finalità che ci sembra anche legittima quella selettiva cioè di consentire a chi ha qualità migliori di esprimerle e di raggiungere i risultati migliori possibili ma nello stesso tempo vorremmo anche soprattutto pensando a qualche legittima preoccupazione che abbiamo come genitori rispetto ai nostri ragazzi nel loro approccio a una realtà nuova la vorremmo molto inclusiva cioè una scuola che comunque tiene conto che nel momento del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore i ragazzi possono avere delle difficoltà possono avere bisogno di qualcuno che gli sta accanto possono avere bisogno magari non di un docente particolarmente severo nei loro confronti ma qualcuno che possa nello stesso tempo metterli nella condizione di rendere al meglio tenendo conto delle loro come dicevo prima legittime difficoltà ecco queste due realtà che ci piacerebbe convivessero all'interno della scuola che andrete andremo a scegliere per i vostri ragazzi a volte ci appaiono come due realtà opposte ci sono appunto scuole che hanno insomma molto rinomate o blasonate che sono famose per i risultati che i loro studenti raggiungono ma abbiamo la sensazione che questi risultati vengano raggiunti a costi a volte piuttosto elevati per quanto riguarda l'impegno per quanto riguarda una certa diciamo un certo stress nella richiesta di soddisfazione e di raggiungimento di alcuni obiettivi dall'altra parte ci sono magari scuole che ci sembrano meno pretenziose o che hanno pretese inferiori ai nostri occhi che però nello stesso tempo magari poi non sono particolarmente che non troviamo particolarmente rinomate o particolarmente oggetto di apprezzamento sulla stampa diciamo così per cui diventa difficile sappiamo bene che esiste tutta una serie di graduatorie che vengono stilate regolarmente su delle presunte classifiche di merito dove potremmo trovarci nella lettura delle quali potremmo trovarci un po' spiazzati perché queste due realtà scuola inclusiva scuola selettiva scuola 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 accogliente sembrano appunto giocare partite diverse rispetto a queste richieste qual è la scuola migliore per il vostro ragazzo non c'è una risposta ovvia è per questo che la scelta diventa difficile probabilmente tutti mettono in evidenza e apprezzano la scuola che propone il raggiungimento di risultati eccellenti nello stesso tempo però questi risultati eccellenti possono essere raggiunti a costi a volte molto elevati e magari i nostri ragazzi nel processo di crescita e di formazione non sono immediatamente pronti per sostenere l'eccellenza a volte ci arrivano gradualmente faccio l'esempio della mia realtà quotidiana io vedo molto spesso studenti che si iscrivono all'istituto tecnico perché hanno dei dubbi delle perplessità sulla possibilità di frequentare l'università e vorrebbero come dire una soluzione dopo i cinque anni probabilmente più sicura intraprendono il percorso si rassicurano diventano consapevoli delle proprie capacità apprezzano lo studio che stanno facendo e a quel punto come dire la scelta lavorativa non è più la prima scelta che si è rappresentata ai loro occhi inizialmente e viene sostituita da una inevitabile automatica scelta universitaria questo è quello che dobbiamo tenere conto rispetto appunto all'approccio che hanno i nostri ragazzi alla scuola superiore a volte faccio questo esempio che è un po' banale insomma tutti aspirerebbero magari ad avere l'accesso a una grande squadra calcistica tutti vorrebbero giocare probabilmente nel Manchester nella Juventus o nel Real Madrid però forse per qualcuno è meglio iniziare a giocare nel Sassuolo e poi progressivamente accedere passo dopo passo a un livello più alto perché a volte fare delle scelte troppo spinte potrebbe come dire tarpare bruciare un pochino le ali nel momento in cui si inizia a volare e altre volte invece è giusto magari pretendere un po' di più aspirare un po' di più non fermarsi magari a qualcosa che magari è effettivamente un livello diciamo magari di mediocrità o di un livello un po' troppo basico diciamo così e accedere a qualcosa che è più stimolante più gratificante ci pone degli obiettivi più alti il problema qual è? è che a volte non è difficile questa scelta ma altre volte il più delle volte è molto difficile perché i ragazzi e ragazze sono in una fase di formazione di crescita e non è così semplice capire quale sia la scelta migliore e quale tipo di richiesta fare loro per permettere loro di rendere al meglio diciamo che oggi la tendenza da parte dei genitori è quella è quella che di fronte a questo panorama molteplice di punti di domanda orientarsi verso un ambito scolastico che è ormai ritenuto dalla più della maggioranza degli italiani quasi naturale e inevitabile questa questo aerogramma questa torta che voi vedete si riferisce alle scelte che gli studenti e le famiglie hanno fatto nell'anno 19 e 20 questa tabella si riferisce alle scelte fatte l'anno scorso 20 e 21 ho portato questi due dati per mostrarvi come nel corso di questi anni si sia verificata una tendenza che è ormai assodata acquisita cioè la maggioranza delle famiglie italiane scelgono tendenzialmente la proposta liceale oggi la proposta liceale è molto articolata ovviamente anche se si focalizza ancora su due nomi che sono un po' come dire fanno parte della tradizione italiana che sono classico o scientifico in realtà questa scelta non esiste più in forma paritetica perché come vedete dai dati ormai la tendenza progressiva da parte delle famiglie è orientare lo studio verso il liceo scientifico quasi il 27% delle famiglie italiane l'anno scorso hanno scelto il liceo scientifico è una scelta legittima probabilmente sì visto che siamo in un'epoca scientifica tecnologica informatica quindi la prospettiva di una dimensione che consente di accedere a questa realtà di un futuro già quotidiano è forse una scelta corretta non so dirvi se è necessariamente utile farlo attraverso una scelta liceale sembra appunto che la maggioranza degli studenti siano ormai proiettati verso questo tipo di approccio allo studio come docente di lettere io non nascondo qualche perplessità il fatto che quasi il 60% degli studenti italiani siano pronti e preparati ad affrontare uno studio che è ancora prevalentemente fondato sullo studio libresco cioè sulla possibilità e sulla necessità di stare parecchie ore davanti a un libro e che lo studio avvenga per lo più ancora in forma teorica credo che non risponda forse del tutto alla realtà dei fatti qualche segnale da questo punto di vista lo si può notare per esempio negli ultimi anni si vede che il liceo scientifico tradizionale è leggermente in calo mentre è in significativa crescita il liceo scientifico delle scienze applicate forse perché ci si aspetta o si spera che in questo contesto scolastico di apprendimento si possa affiancare diciamo a un apprendimento più propriamente teorico anche un'applicazione un'applicazione pratica che però insomma è decisamente parziale perché ancora come dire i programmi di studio prevedono che la formazione avvenga prevalentemente sui libri poi sappiamo ci sono tanti altri licei il liceo linguistico ovviamente è ancora uno di quelli particolarmente ricercati c'è un prossato l'anno scorso un leggero aumento del liceo artistico il liceo delle scienze umane soddisfa una richiesta consistente perché siamo attorno al 10% poi ci sono dei licei invece diciamo che vanno a soddisfare soprattutto passioni e inclinazioni particolarmente diciamo personali e specifiche come liceo musicale il coreutico come vedete hanno percentuali piuttosto ridotte sicuramente ecco questa percentuale di un 60% di quasi ormai di studenti che optano per il liceo è un numero consistente in parole povere cosa significa significa che nel momento in cui noi ci prepariamo a scegliere con i nostri ragazzi di affrontare la scuola superiore mettiamo in conto che quella scuola superiore come ricordava prima la professoressa De Maria è incentrata su 5 anni di studio ma nel momento in cui noi affrontiamo il liceo è ovvio che noi non ci limitiamo a porre nella nostra prospettiva 5 anni di studio perché perché la scelta liceale presuppone e mi sento di poter dire impone la scelta universitaria cioè noi gli stiamo dicendo a un ragazzino di terza media ed è anche un'affermazione che può essere giustificata e suffragata dal fatto che noi vediamo nel nostro ragazzo nella nostra ragazza qualcuno che è in grado di affrontare questa dimensione scolastica per un periodo più lungo non 5 anni ma almeno 8 anni cioè 5 anni di scuola superiore e 3 anni almeno di università triennale e poi ipotizziamo che ci possa anche essere una magistrale e quindi così davanti a noi abbiamo almeno un periodo di 10 anni di studio se come dicevo prima questo questa prospettiva può spaventare non dobbiamo avere paura di scegliere come alternativa un istituto tecnico perché questa scelta ai nostri occhi declassa il nostro nostro figlio purtroppo negli ultimi tempi c'è la sensazione che se non si fa la scelta liceale tutte le altre scelte sono scelte di ripiego è un rincalzo siccome non posso andare al liceo allora mi accontento di andare a un istituto tecnico ecco io non credo che questa sia una prospettiva corretta lo dico anche da insegnante che lavora in contemporanea nel liceo scientifico e in un istituto tecnico come è il primo Levi e come dicevo prima ho avuto insomma la soddisfazione insomma da insegnanti noi abbiamo queste soddisfazioni di vedere tanto alcuni miei studenti liceali quanto alcuni studenti dell'istituto tecnico biologico accedere alla facoltà di medicina perché porto la facoltà di medicina come esempio perché sappiamo che tra le tante facoltà è una di quelle che come dire con l'introduzione del numero chiuso del test ingresso è notoriamente riportata sui giornali in televisione come un momento insomma di passaggio delicato dove tanti provano e pochi riescono beh il fatto che contemporaneamente siano riusciti gli studenti di liceo scientifico e uno dice beh è abbastanza normale ma ci siano riusciti anche gli studenti dell'istituto tecnico certo con un indirizzo biologico che evidentemente è più orientato di quello che potrebbe essere ovviamente un indirizzo di carattere economico quindi le scelte devono essere anche razionali o oculate però ci sono riusciti tutti e due quindi questo vuol dire che l'istituto tecnico non dà una preparazione inferiore dà una preparazione diversa e l'approccio all'istituto tecnico è un approccio che non può prescindere dai libri perché io non vado in laboratorio a inventare qualche cosa lì per lì ma vado in laboratorio a mettere in atto quello che nel libro ho potuto diciamo che il libro mi ha introdotto e che poi in laboratorio metto in pratica chi vuole affrontare lo studio con serietà trova anche in queste in questo grado di istruzione delle notevoli possibilità possibilità ancora più significative se rapportate a due aspetti uno alla fine della terza media non sono così convinto di avere davanti a me ancora otto anni di studio incominciamo a prenderne cinque e poi vedremo in secondo luogo l'istituto tecnico mi dà una preparazione che mi consente se lo desidero di accedere a una dimensione lavorativa che è anche richiesta come vedete i due settori sono hanno diciamo un accesso in questo momento un pochino diverso il settore economico è una scelta che riguarda più o meno il 10% degli studenti il settore tecnologico che può essere biologico chimico eccetera eccetera si attesta attorno al 20% ed è in progressiva crescita questo devo dire che secondo me sono aspetti positivi perché negli anni passati il boom dei licei aveva penalizzato molto gli istituti tecnici e invece soprattutto nelle regioni del nord Italia se noi andiamo a vedere questi dati diciamo geolocalizzati vediamo che regioni come la Lombardia l'Emilia Romagna il Veneto hanno un accesso agli istituti tecnici quasi paritario rispetto ai licei e ovviamente dei riscontri molto positivi in termini lavorativi nonché con degli sviluppi successivi perché è chiaro che poi un accesso a facoltà universitaria di area tecnologica e scientifica consente a questi ragazzi di avere delle chance lavorative anche delle gratificazioni economiche poi apprezzabili diciamo che in questo diciamo quadro dell'istruzione da cui era partita la professoressa De Maria a cui poi lascerò la parola per quanto riguarda invece la sfera diciamo professionale a livello regionale chi soffre molto è il settore dell'istruzione scolastica professionale perché perché se in passato dobbiamo essere franchi sinceri se in passato l'istituto tecnico appariva come un piccolo declassamento rispetto al liceo il professionale è stato visto con uno sguardo molto critico dalle famiglie ritenendolo proprio il livello più basso di scolarità superiore che dire i dati li vedete parliamo di una scelta che riguarda oggi il 12% delle famiglie italiane è un dato veramente molto basso ed è una tendenza al calo progressiva che continua da anni per quanto io non insegni negli istituti professionali credo che non sia una scelta oculata quella di escluderli a priori perché offrono risorse danno possibilità e potrebbero assolvere a un compito socio-economico non indifferente resta il fatto insomma che il dato è oggettivo quindi insomma anche i dati parlano però spesso noi come dire nella nostra vita quotidiana abbiamo la sensazione che alcune professioni mancano manchino e vi posso assicurare che colmare questi vuoti professionali non ci si arriva frequentando il liceo scientifico il liceo classico il liceo delle scienze umane o del liceo linguistico quindi inviterei a non escludere a priori una scelta professionalizzante che sia quella del professionale o quella dell'istituto tecnico certo vagliarla con cura vagliarla con attenzione ma come diceva prima la professoressa De Maria appunto ci poniamo di fronte alla necessità di fare una scelta e quindi escludere a priori qualcosa magari ci porterebbe a escludere in quella in quella vetrina fantastica di dolciumi che la professoressa ha presentato prima qualcosa che poteva essere anche molto accattivante e prelibato siamo arrivati alla fine siamo tornati al punto di partenza cioè le domande i punti di domanda sono tanti avete secondo me la fortuna di non doverli affrontare e risolvere tutti questa sera né nell'immediato come dicevano gli amici dell'informa giovani è l'inizio di un percorso che il comune di Novata e il campus affronta e sostiene con attenzione e con cura le vostre scuole medie saranno sensibili a questo le scuole superiori si faranno vedere sentire attraverso le modalità che questa situazione diciamo sanitaria ancora purtroppo un pochino emergenziale ancora un pochino critica impone quindi alcune scuole ricorreranno agli incontri online altre introdurranno incontri in presenza magari a gruppi contingentati e scaglionati per assolvere tutte le necessità che l'epoca ancora covid richiede non abbiate fretta nel decidere ponderate come diceva la professoressa De Maria ai pro e contro di una scelta e prendete tempo nessuna scelta è irreversibile però non ecco non date per scontato che sia facilissimo poi cambiare quindi non abbiate fretta ci si scrive fino alla fine di gennaio e quindi frequentate partecipate ascoltate quello che vi viene comunicato dalle scuole superiori e poi come si diceva anche prima non andate in scelte al negativo quindi non faccio questo perché non voglio fare questa cosa optate per le scelte in positivo mi piacerebbe fare questo perché ci sono degli argomenti delle discipline delle prospettive che mi sembrano affascinanti e stimolanti lascio alla professoressa De Maria la conclusione della presentazione e poi siamo a disposizione per le domande grazie da fianco grazie così dopo non facciamo meno sistema tutto arriva questo un attimino che condividiamo eccoci no questa che è la di prima ecco un attimino sì bene allora riprendiamo un attimo il nostro il nostro dibattito in realtà un po' monologo ma comunque spero che arrivino anche tante domande in modo che ci possa essere un vero e proprio dibattito riprendo alcune faccio alcune sottolineature rispetto a quello che ha detto il dottor Santini che non se lavorerà sicuramente allora innanzitutto lui vi ha presentato i dati che sono i dati delle iscrizioni io non li ho non ci ho non li ho portati però io vi farei vedere quelli che sono i dati l'anno dopo nel senso che la perplessità che lui esponeva rispetto al fatto che il 60% dei ragazzi che si iscrivono in un percorso liceale in realtà abbiano quello nella loro vocazione è una perplessità che poi trova riscontro nella realtà perché molti studenti cambiano indirizzo di studio si spostano si trovano abbandonano abbandonano la loro prima scelta allora attenti come diceva nessuna scelta è irreversibile però ogni scelta ha un costo nel senso un dover riprendere un dover cambiare dopo un insuccesso comunque ci metti nel nostro bagaglio personale un insuccesso per cui riflettiamo anche su questo un invito ai genitori lasciamo stare le mode cioè va di moda un certo tipo di liceo va di moda il cuoco va di moda Santa Polenta non so che cosa allora non è una scelta che può seguire una moda questa è una scelta di vita per il nostro per il nostro figlio e quindi deve essere una scelta assolutamente ponderata rispetto a quelle che sono le sue capacità le sue possibilità le sue aspettative e non necessariamente le nostre perché le sue le nostre possono non coincidere e dobbiamo fare molta attenzione a questo aspetto perché caricare di insuccessi i nostri ragazzi solo per poter dire alla vicina di casa ma mio figlio fa il liceo beh non è proprio una bella cosa scusate la franchezza ma troppi ne vedo mi occupo di questi aspetti a livello macro e mi capita molto sovente di dover seguire ragazzi che a un certo punto non riescono più a rientrare nella scuola noi abbiamo un tasso di dispersione scolastica altissimo anche al nord e probabilmente e la dispersione scolastica vi assicuro ce l'abbiamo ovviamente in prima e seconda non è che abbiamo dispersioni scolastiche alte quando arriviamo alla fine della carriera e sono molto spesso risultato di scelte azzardate o non ben ponderate per cui facciamo una riflessione di senso l'altra osservazione che volevo fare rispetto a quello che ha proposto il dottor Santini è la prospettiva post diploma allora in dopo il diploma noi non abbiamo più solo l'università ma il sistema scolastico italiano il sistema di istruzioni italiano si è dotato ormai da 11 anni dal 2010 di un sistema terziario professionalizzante o terziario non accademico come viene detto si chiamano sono quei corsi di cui si è parlato ne ha parlato anche il nostro Draghi nel suo discorso introduttivo sono gli IS istituti tecnici superiori che sono percorsi di due o tre anni che nascono che si effettuano dopo il diploma e che hanno un valore in alcuni casi corrispondenti a quelli della triennale universitaria all'interno di quella classificazione QF di cui vi parlavo prima oppure sono leggermente più bassi però sono un quinto livello QF al momento i percorsi TAS sono percorsi che garantiscono l'occupabilità all'interno del settore quindi in coerenza con lo studio effettuato a livello nazionale quindi non in Lombardia perché in Lombardia i dati sono più alti un'occupabilità entro sei mesi pari all'86% cioè perché sono percorsi di tecnici di alto livello e sono quei percorsi che sono estremamente ricercati dal mondo del lavoro io nel mio ruolo mi occupo di tutto quello che sta a cavallo tra la scuola e il mondo del lavoro e vi assicuro che ricevo costantemente sollecitazioni da associazioni datoriali da grandi imprese che lamentano il fatto di non avere personale qualificato e formato per poter entrare in professioni che non sono professioni minori ve lo assicuro neanche in termini di stipendio e qui mi aggancio al cosa farò da grande nel senso se noi abbiamo una prospettiva di studio più lunga come ha detto il professor Santini se noi entriamo in un percorso liceale allora le nostre prospettive nei confronti del mercato del lavoro sono a molto lungo termine e poiché come tutti voi sapete noi stiamo vivendo una rivoluzione epocale ci siamo dentro e non è la quarta siamo già nella quinta rivoluzione industriale perché quello che è successo in questi due anni dal punto di vista dei processi produttivi e delle relazioni socio-economiche anche internazionali perché noi possiamo più guardare quello che succede nel paese di fianco ma abbiamo bisogno di guardare davvero con una visione quantomeno mondiale visto che presto si andrà anche su Marte non si sa bene su cosa vi dicevo le situazioni ovviamente cambiano si evolvono per cui diventa complesso fare un ragionamento a dieci anni anche se ovviamente le professionalità indispensabili si manterranno ma saranno sicuramente diverse se invece pensiamo di inserirci nel mercato del lavoro in un tempo più breve allora le prospettive sono le prospettive se trovo il tasto giusto che mi fa muovere avviate eccolo qua di quel canale che si chiama vocational educational and training lo chiamano canale vet è il canale di istruzione e formazione che ha come obiettivo quello di dare alle persone le conoscenze le capacità le abilità le competenze richieste per svolgere al meglio delle occupazioni dei lavori per ricoprire ruoli professionali che siano richiesti dal mondo del lavoro e il nostro sistema VET in Italia è costituito da questi due percorsi di studi i percorsi dell'istruzione professionale e i percorsi dell'istruzione formazione professionale ve li ho presentati prima il primo è comunque un percorso a livello nazionale il secondo sono percorsi che sono normati a livello regionale e non a caso nel senso se deve rispondere al mercato del lavoro e lo deve fare in breve tempo probabilmente anche diciamo così l'ambito territoriale che viene preso in considerazione è un pochino più ristretto allora questi due percorsi formano però un unico canale perché sono stati creati dei link tra i due percorsi nel senso che consentono i passaggi allora vediamo gli istituti professionali gli istituti professionali sono nuovi nel senso che sono stati riformati nel con un decreto legislativo nel 2017 e quest'anno ci sono visto che ho saltato la parola le nuove quarte nel senso che non siamo ancora arrivati in quinta questa riforma ha definito gli istituti professionali come scuole territoriali dell'innovazione aperte e concepite come laboratori di ricerca innovazione e sperimentazione si sta cercando di dare a livello normativo un ruolo veramente nuovo a questi istituti professionali cioè si vuole ritornare diciamo così è un andare avanti ma guardando indietro a quello che era il ruolo importante che gli istituti professionali hanno avuto quando c'è stato il boom no e quindi queste scuole creavano profili che rispondevano alle esigenze che non erano necessariamente dei profili statici e che non avevano possibilità di evolversi ok ma che intanto in prima battuta avevano come sbocco l'inserimento nel mercato del lavoro la riforma degli istituti professionali vuole tenere in considerazione quelli che sono gli stili di apprendimento e scusate io qui apro un altro un'altra parentesi il professor Santini prima ha detto che andare al liceo significa studiare sui libri sostanzialmente mentre invece ci sono molti ragazzi che hanno una modalità di apprendimento che non incontra il libro nel senso molte persone molti ragazzi apprendono molto di più imparano molto di più facendo le cose e poi ragionando sulle cose che hanno fatto che non studiando prima come farle per poi metterlo in pratica della serie ho cercato di sintetizzare quali sono i due stili da un lato uno che quando prende il telefono prima si studia tutto il libretto delle istruzioni e poi lo mette in funzione dall'altro quello che prende il telefono comincia a accenderlo comincia a smanettarci e poi quando non è capace di fare una funzione magari va a cercare sul libretto per vedere come deve procedere allora un diverso stile di apprendimento nei ragazzi è molto spesso porta a successo o insuccesso all'interno di un sistema scolastico in cui prevale lo stile di insegnamento che incontra lo stile di apprendimento dei vostri ragazzi e questo secondo me è un punto di riflessione estremamente importante perché la gerarchia delle scuole cioè il fatto che il liceo sia il master poi ci siano gli istituti tecnici poi ci siano gli istituti professionali e poi ci sia l'IFP non so chi l'ha fatta probabilmente i licei nel senso che come sempre la storia la racconta dei vincitori ma riflettiamo un attimo cioè perché un tipo di scuola deve valere di più di un'altra qual è il criterio che dà il valore i tanti punti di domanda che proponeva il professor Santini a quei punti di domanda dobbiamo aggiungere anche questo ma esiste davvero una gerarchia forse no se noi cerchiamo il percorso più idoneo allo stile di apprendimento del nostro ragazzo a quello che il nostro ragazzo la nostra ragazza è quello che vorrebbe essere quindi prendiamo in considerazione un pochino tutti i percorsi di studi anche perché con questa riforma dei professionali si è riusciti a eliminare quello che era una duplicazione dei tecnici c'è stato un periodo in cui i professionali e tecnici avevano corsi che erano praticamente sovrapponibili allora il lavoro che è stato fatto in questa riforma dei professionali è un lavoro fatto sulla metodologia didattica e quindi sul fatto di incontrare ragazzi che hanno stili di apprendimento operativi con una didattica personalizzata basata sulle competenze e undici percorsi di studi questi undici percorsi di studi sono definiti a priori ma hanno al loro interno ma le scuole hanno la possibilità di declinare il percorso al loro interno per cui è un altro punto di attenzione che dovete porre allora guardate quali sono i settori produttivi praticamente c'è di tutto ok per cui dall'agricoltura alla pesca noi non abbiamo molto di questo in Lombardia l'industria artigianato del made in italy che va dalla sartoria ovviamente alla meccanica la manutenzione assistenza tecnica la gestione delle acque i servizi commerciali l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera i servizi culturali e per lo spettacolo i servizi per la sanità e l'assistenza sociale e poi ci sono gli odontotecnici e gli ottici allora sono percorsi che portano a delle professionalità tecniche anche di buon livello ok questo l'abbiamo detto vi danno la possibilità di accedere ovviamente se non vi volete fermare alla fine del quinto anno a cercare una professione all'università perché sono percorsi quinquennali che rilasciano un diploma passiamo invece al sistema IFP allora come vi dicevo il sistema IFP è un percorso che è normato quindi gli ordinamenti i programmi tanto per capirci che non esistono più né da una parte né dall'altra però le indicazioni di studio sono previste dalla regione e i percorsi IFP sono erogati li potete trovare sia all'interno dei centri di formazione professionale enti accreditati dalla regione Lombardia sia all'interno degli istituti professionali di stato per cui una un istituto che voi conoscete come un istituto professionale può al suo interno erogarvi anche dei percorsi IFP anche in questo caso c'è stata una riforma recente di quello che è il repertorio delle figure e i corsi IFP hanno 26 figure 53 profili perché poi le figure si possono articolare per quanto riguarda l'operatore e credo 29 non lo vedo figure di cui declinate in 62 profili per quanto riguarda i tecnici quindi avete una scelta ampissima non basta più quella foto che vi ho proposto prima qui ci vorrebbero tre vetrine di pasticceri per mettere insieme tutto quello che avete a disposizione che cosa vi consente vi consente un inserimento immediato nel mondo del lavoro si parte dall'operatività come vi dicevo si arriva all'astrazione teorica nel passaggio successivo il ragazzo si accorge che ha voglia di studiare può continuare finito il terzo anno fa il quarto finito il quarto anno può pensare o di fare un passaggio all'interno di un istituto professionale o c'è un'altra modalità con cui può accedere a prendere il diploma oppure specializzarsi attraverso un IFTS che è un anno di specializzazione e dopo questo anno di specializzazione accedere all'ITS quindi accedere al sistema terziario non accademico questa lo so che la vedete male però è quell'aspetto di cui vi parlavo prima allora i titoli di studio sono stati classificati a livello europeo proprio per avere la possibilità di un riconoscimento nei passaggi dai lavoratori da una nazione ad un'altra e sono classificati in questo quadro nazionale delle qualifiche o EQF come l'ho chiamato prima che prevede otto livelli ok i vostri ragazzi in questo momento sono al primo livello arriveranno al secondo con la seconda superiore e quindi con l'assolvimento dell'obbligo scolastico potranno accedere al terzo se faranno un IFP con la qualifica arriveranno al quarto livello EQF o con un diploma professionale di quarto anno IFP o con un diploma di scuola superiore che sia un liceo che sia un tecnico che sia un professionale potranno accedere a un quinto livello EQF con l'ITS biennale un sesto livello EQF con la laurea di primo livello o ITS triennale il settimo con la laurea magistrale e arrivare all'ottavo con un dottorato di ricerca allora ce n'è per tutti ok ecco perché è sempre difficile allora uno strumento che potete utilizzare sicuramente per fare un'analisi un pochino più approfondita dei percorsi di studi è il sito del ministero su cui trovate questa area orientamento MIUR il nome da inserire che riporta la declinazione di tutti i percorsi magari con l'indicazione delle discipline con un quadro orario con gli sbocchi occupazionali che potreste avere proprio per conoscere meglio tutte quelle che sono le prospettive che vi sono offerte grazie per l'attenzione a tutti ok ok ci sono un po' di domande allora partiamo da una prima domanda allora il liceo delle scienze applicate è a tutti gli effetti uno scientifico senza il latino o un ibrido fra lo scientifico e la scuola tecnica direi che qua Santini può rispondere allora inizio a rispondere io visto che ci insegno tutti i giorni domani mattina inizio alle 8 ma allora diciamo che il liceo delle scienze applicate è un liceo scientifico a tutti gli effetti diciamo che se fosse anche un po' più vicino alla scuola tecnica non sarebbe un problema anzi devo dire che per esempio nel primo Levi di Bollate l'istituto delle scienze applicate ha una tradizione antica perché era nato come liceo scientifico tecnologico proprio perché voleva sottolineare a tutti gli effetti l'importanza dello studio tecnologico ad alto livello e non considerarlo invece come dicevamo prima una sorta di ripiego tant'è vero che quando ci fu la riforma dei licei e ci fu anche una tentazione a scardinare questa forma di apprendimento ci fu da parte di molti intellettuali italiani una sottoscrizione di firme per fare in modo che il liceo scientifico tecnologico che poi diventò delle scienze applicate rimanesse e avesse quel riconoscimento che meritava quindi è un liceo scientifico a tutti gli effetti io lo sceglierei non perché non c'è il latino ma perché si studiano più le scienze e l'informatica che sono argomenti che oggi penso abbiano diciamo particolare attenzione nel contesto sociale in cui viviamo ok allora c'è un'altra domanda di questo tipo in realtà sullo scientifico c'era anche scritto qual è lo sbuco professionale però credo che parte abbiate risposto il discorso che un liceo scientifico in senso stretto non ha uno sbocco professionale perché presuppone l'accesso all'università nessuno scelga liceo scientifico pensando tra cinque anni di avere delle opportunità di lavoro perché non ce le avrà deve per forza pensare che va in un liceo che darà una formazione di base per poter accedere a un percorso universitario che possa poi preparare al mondo del lavoro a un livello diciamo di alto profilo posso? certo questo è acceso no? allora siamo caduti in quello che io dicevo la scelta contro allora vorrei sottolineare questo aspetto allora intanto il liceo delle scienze applicate è un liceo che al posto del latino ha una serie di altre cose ma come tutte le scuole e purtroppo noi abbiamo una grossa difficoltà perché molto spesso i ragazzi dicono io vado in quella scuola perché non mi piace quella materia oppure scelgo quella scuola perché non voglio avere troppa matematica questo è quello che intendevo quando dicevo non fate delle scelte contro uno perché le matematiche sono tante e potreste rendervi conto che la matematica della scuola a cui avete rinunciato era una matematica che vi sarebbe piaciuta moltissimo ok ma poi proprio perché se è quello che ti piacerebbe fare e fai anche lo sforzo per digerire la matematica che forse ti serve visto che siamo così bassi rispetto a tutte quelle che sono le discipline STEM che sono le più richieste in assoluto ok grazie c'è una domanda un po' particolare che dice per una persona che non ha dice proprio così che non ha molta voglia di studiare ma non vuole fare un professionale triennale cosa consigliate secondo me la voglia di studiare non è qualcosa di innato è qualcosa che può venire nel senso che a uno non piace studiare fino a quando non trova le cose che gli piacciono quando trova le cose che gli piacciono e riesce a dare un senso allo studio secondo me tutti si mettono a studiare perché gli piace nel senso quanti ce ne sono ragazzi che non gli fai leggere un libro neanche a morire ok ma poi quando devono prendere in mano un che ne so io il manuale di un apparecchio elettronico eccetera si leggono centinaia di pagine allora è un problema di motivazione faccia quello che gli piace cerchi proprio di individuare un percorso che può interessarlo poi lo so benissimo a scuola bisogna studiare anche delle cose che non piacciono ok che non piacciono perché non se ne vede l'utilità nel momento in cui uno riesce a rendersi conto del fatto che quello che sta studiando può essere utile beh diventa più semplice ecco ok c'è una domanda che dice esiste un liceo classico sportivo no esiste solo un liceo scientifico sportivo anzi un liceo sportivo è a numero chiuso ci sono delle sezioni limitate e anche in questo caso mi raccomando guardateci dentro perché non è che è il liceo dove si gioca tennis pallacanestro pallavolo da mattina alla sera è un liceo cioè quindi la preparazione che uno deve avere sarà anche curvata sull'aspetto sportivo ma vorrà dire che invece di fare più biologia farà più anatomia ma siamo in quell'ambito sottolineo quello che diceva la professoressa De Maria proprio perché anche nella mia attività di orientamento insomma quotidiana molto spesso ho a che fare con le richieste relative al liceo scientifico sportivo proprio perché nella mia scuola esiste questo indirizzo è un liceo scientifico l'obiettivo non è quello di diventare un bravo calciatore un bravo tennista un bravo cestista ma è un domani poter affrontare un test di economia o un test di medicina quindi mi devo preparare per affrontare queste discipline che caratterizzeranno un futuro che oggi ancora non ho ben chiaro sicuramente se la mia prospettiva è quella del college americano dove siccome sono bravo a baseball o a football allora sarò automaticamente promosso non è questa la condizione del liceo sportivo italiano possiamo suggerire di guardare bene i quadri orari perché secondo me è un'indicazione ecco non trascurate so che non è una lettura piacevole però non trascurate i quadri orari dei diversi indirizzi perché se guardate il quadro orario dell'indirizzo sportivo vi accorgete che di educazione fisica ci sono credo quattro ore anziché due esatto ok ma non è che incida pesantemente su quello che è il curriculum di studi trovo interessante l'affermazione della professoressa De Maria che diceva non è una lettura interessante neanche leggere l'orario dei treni è interessante però c'è un'altra domanda qual è la scuola superiore più propedeutica per pensare di fare poi medicina liceo classico dico il mio pensiero liceo scientifico quindi sono due pensieri che andranno bene entrambi giusto? secondo me vanno bene entrambi ma ripeto anche l'indirizzo tecnico biologico se uno lo affronta seriamente è sicuramente un indirizzo che consente anche se vogliamo di valutare se è una propensione cioè di confermare la scelta ecco mettiamola in questo senso più di quanto non facciano gli altri indirizzi perché già affronti delle discipline che sono molto affini sì con una buona applicazione noi abbiamo visto che ottimi studenti sono entrati dall'indirizzo biologico a medicina gli arrivano diverse domande l'indirizzo alberghiero che tipo di sbocchi può offrire? allora l'indirizzo alberghiero e qui apriamo un'altra riflessione perché noi abbiamo vissuto un periodo in cui sull'onda di Masterchef e tutti i programmi televisivi relativi alla cucina abbiamo avuto un incremento notevole di iscrizioni all'interno degli indirizzi alberghieri contemporaneamente contestualmente mettiamola così noi ci ritroviamo ad avere altrettanto frequentemente lamentazioni delle associazioni degli albergatori che non trovano lavoratori dipendenti allora perché riflettiamo su questo aspetto cioè fare l'alberghiero significa avere prepararsi per un'attività che è in un settore per cui si lavora quando gli altri fanno festa cioè allora se uno fa l'alberghiero non può poi pensare di lavorare dal lunedì al venerdì dalle nove del mattino alle cinque del pomeriggio perché è ovvio che sia che io lavoro in un albergo che quindi prenda la parte relativa alla ricezione sia che io lavoro in sala sia che io lavoro in cucina ok gli orari di lavoro sono quelli dei locali dove noi andiamo quando vogliamo fare una cena con con la famiglia o altro quindi le prospettive ci sono però cerchiamo di avere chiarezza anche relativamente a questo punto l'alternativa alla mensa aziendale eh allora c'è una un'altra una riflessione che poi è anche una domanda le mie figlie mi hanno fatto capire che non hanno idea di quali siano le professioni sul mercato e mi hanno chiesto come sia possibile scegliere un percorso senza conoscerne l'obiettivo non credete che possa essere utile presentare nelle scuole una certa quantità di professioni sì sono perfettamente d'accordo allora vi farò ridere ho comprati per mio nipote i libricini che sono stati pubblicati in edicola l'anno scorso e che erano novanta novanta professioni diverse ok perché le professioni sono tantissime quindi sono assolutamente d'accordo c'è la possibilità di verificarle queste cose comunque perché ci sono delle allora se uno vuol fare una lettura approfondita non è così immediata però noi abbiamo un'attante delle professioni ok che è pubblicato dove trovate proprio descritte tutte le professioni fino al dettaglio dell'area di attività che devono essere svolte non c'è ancora una correlazione diretta perché l'attante è l'attante delle qualifiche delle professioni tra il titolo di studio e la professione ma anche perché non si riuscirà mai ad averlo ok però se volete approfondire i vostri ragazzi sono sicuramente bravissimi gli apriti dell'attante delle professioni e loro hanno la possibilità di andare a vedere tutte le professioni che sono che esistono ok in Italia in continuo aggiornamento prodotto dall'Istat per cui Istat Ampal con anche adesso Union Camera allora c'è un'altra domanda che dice quali sono le difficoltà del latino per capirlo basta sapere bene la grammatica allora le difficoltà del latino sono quelle di una lingua morta che non essendo parlata regolarmente impone uno studio che è in parte mnemonico e che richiede un'applicazione costante è però come dire un metodo di apprendimento e di formamentis per usare il latino che dà dei buoni risultati quindi sicuramente l'apprendimento del latino è impegnativo non a caso caratterizza due scuole che per quanto appunto siamo entrambi contrari a vedere questa gerarchia scolastica che vede al vertice necessariamente sempre comunque i licei però sicuramente l'impegno di studio richiesto da un liceo classico e da un liceo scientifico tradizionale con il latino sottolinea che il latino richiede tempo ma abitua anche a sostenere uno sforzo diciamo di apprendimento che poi torna utile e consente l'esercizio anche in ambiti professionali che magari non richiedono più il latino ma secondo me non è poi così difficile è tutta una nomea che si è fatto il latino nel senso che se uno lo affronta come una qualunque altra disciplina nel senso va studiata punto lo studio richiede fatica la scuola richiede fatica questa è la parola magica nel senso che se ci mettono buona volontà e fatica i risultati li portano a casa se i ragazzi pensano che basti frequentare ogni tanto per portare a casa il risultato questo non è un risultato questa è una presa in giro ok perché io vorrei ricordare fortemente che l'apprendimento è fondamentale non il voto allora ragazzi voi andate a scuola per imparare e ve lo ricordo perché solo quello che sapete non ve lo può portare via nessuno finché non arriva il signor Alzheimer ok quindi dove studiare perché studiando imparate imparate cambiate perché l'apprendimento porta cambiamento non io sono fatto così e quindi non mi muovo io sono fatto così e devo cambiare perché devo migliorarmi e questi sono gli elementi essenziali dopodiché si studia tutto ok qualcosa ci vorrà qualche mezz'ora in più qualcosa mezz'ora in meno non importa grazie c'è questa altra domanda ci scrive ho un figlio dislessico che è innamorato della matematica meno male vuol proseguire gli studi con l'università ma fa fatica ci mette molte ore a studiare lo scientifico e scienze applicate è la sua prima scelta ma l'istituto tecnico mi sembra che abbia comunque le stesse ore di studio mi sbaglio? le stesse ore di studio non lo so cioè se facesse un tecnico piuttosto che le scienze applicate dice avrebbe le stesse ore di studio tempo studio penso che si riferisca diciamo le modalità di studio come dicevamo prima sono diverse ecco diciamo che di fronte a una difficoltà oggettiva a utilizzare il libro come strumento di lavoro la difficoltà ovviamente è un dato di fatto è oggettiva è anche vero che però queste difficoltà sono molto individuali e soggettive cioè è un po' difficile risolvere noi abbiamo avuto noi non abbiamo avuto il dislessico grave che ha preso la laurea in matematica dopo aver fatto il liceo quindi diciamo che è un po' difficile dare una risposta to cure che vada bene per tutti rispetto a una problematica individuale io credo che ci siano anche gli strumenti come diceva appunto la professoressa De Maria non si può generalizzare dire ce la farà senz'altro come non si può generalizzare dicendo ebbè però è una difficoltà insormontabile in questo caso è utile verificare le scuole e guardare che sensibilità c'è rispetto a questo tipo di problema c'è questa domanda mia figlia pratica uno sport a livello agonistico che la impegna quasi tutti i giorni per gli allenamenti la grande difficoltà è riuscire a conciliare scuola e sport pensate che il liceo scientifico sportivo possa essere una buona scelta? allora sicuramente è una scelta coerente fermo restando che come dicevo prima il liceo scientifico sportivo non mira a esaltare le qualità agonistiche o sportive della ragazza in questo caso che ha già quindi ha già una società sportiva in cui lei darà il meglio di sé a livello appunto agonistico e sportivo il liceo scientifico certamente può essere scientifico sportivo può essere una scelta coerente sicuramente diciamo che in tutte le scuole dovrebbe trovare un'attenzione rispetto al fatto che essendo un atleta professionista mi pare o quasi si avrà un'attenzione a quelle che sono le sue esigenze e i suoi impegni a prescindere che lei scelga un liceo scientifico sportivo la normativa sugli atleti un'altra domanda vorrei lavorare con i bambini facendo l'istituto professionale per la sanità e l'assistenza sociale dopo questi cinque anni cosa posso fare? per lavorare con i bambini se intende insegnare andare a scuola deve fare scienze della formazione primaria nel senso che purtroppo l'istituto professionale ex sociosanitario adesso della sanità e dell'assistenza sociale non ha uno sbocco professionale immediato diciamo che è un po' una contraddizione sicuramente prepara molto bene per poter fare quei percorsi post diploma che siano di tipo accademico non accademico che consentono poi di fare o l'educatore o il docente all'interno dei nidi o delle scuole materne grazie allora un'altra domanda un'aggiunta nel senso che anche in campo educativo nelle varie comunità nei vari centri educativi oramai è richiesta la laurea esatto quindi è un passaggio fondamentale anche qui quello verso il mondo universitario in che cosa si distingue credo sia il liceo delle scienze umane dal classico domandona domandona allora diciamo così che il liceo classico ha non solo il latino ma ha anche il greco e probabilmente lui l'ha frequentato e quindi riesce a raccontarvelo bene il liceo delle scienze umane è un liceo che è nato sulle vecchie magistrali quindi è un percorso che sicuramente si è rinnovato e si è aggiornato ma è più legato all'aspetto appunto psicologico pedagogico che invece non viene assolutamente trattato all'interno del liceo classico che approfondisce proprio gli studi teorici in termini di a parte il greco e il latino poi la filosofia e la storia sostanzialmente nel senso che poi le scienze sono abbastanza marginali mentre invece per quanto riguarda il liceo delle scienze umane che poi in alcuni casi è anche declinato come liceo economico sociale c'è una tendenza appunto più a questi aspetti di tipo sociologia psicologia pedagogia diciamo che liceo classico intende ancora l'apprendimento come l'acquisizione di un amore per il sapere che diventa rigore metodologico cioè studiare e dedicare tempo allo studio anche del latino e del greco consente poi non a caso la professoressa De Maria diceva prima io se volessi fare medicina farei liceo classico è questo rigore metodologico che nasce dal cercare di diciamo di apprendere il più possibile da quelle forme di sapere classico che come diceva sono la filosofia le lingue antiche e la storia oltre alla letteratura italiana che sulle quali verte lo studio del liceo classico c'è un'altra domanda che dice cosa ne pensate del liceo scientifico Cambridge con potenziamento della lingua inglese sapete se esiste un liceo classico con potenziamento dell'inglese non ho sotto mano tutta l'offerta formativa ma sicuramente da qualche parte esiste perché poi le scuole avendo a disposizione un margine di autonomia scolastica per cui la possibilità di integrare con una disciplina o di potenziare alcune discipline per differenziarsi sul territorio fanno delle scelte di questo tipo per cui ovviamente è il potenziamento della lingua inglese che ognuno deve valutare se la lingua inglese è fondamentale per l'amor del cielo però magari uno se la fa già per conto suo e preferisce a scuola fare un'altra disciplina che da solo non farebbe mai anche questi sono degli elementi da prendere in considerazione ci sono degli apprenditori apprendimenti che sono facili anche al di fuori del sistema scolastico e invece apprendimenti che è difficile realizzare fuori dal sistema scolastico e quindi probabilmente vale la pena di focalizzare l'attenzione su questi ultimi sicuramente sicuramente il liceo classico come dicevo prima ha una nomea che però può anche essere una condanna cioè quello di dire è legato a un mondo antico superato e morto quindi la necessità come dire di confrontarsi con una realtà invece che è in continuo divenire in continuo movimento l'ha portato a sviluppare come approfondimenti la matematica e l'inglese quindi facendo una ricerca su quelle che sono le proposte dei singoli licei classici è abbastanza frequente trovare magari un potenziamento orario di queste due discipline che sono sempre state ovviamente per la natura dell'iceo classico magari un pochino secondarie rispetto a questa una volta non andavano neanche in maturità ci chiedono ancora può essere utile rivolgersi ai centri psicopedagogici e di orientamento è utile sottoporre il ragazzo a test attitudinali se ci crede sì sì credo anch'io che non sia sicuramente fare riferimento dei centri per l'orientamento è utile se no non saremmo qui questa sera quindi sui test psicoattitudinali perché no senza farne un'ossessione ecco credo che può essere un altro degli elementi da considerare mettiamo così che non sia totalizzante però può essere un ulteriore elemento di informazione che abbiamo su di noi sui nostri ragazzi per chi è interessato particolarmente alla storia non esiste che scuola può essere consigliata ma credo che le ore di storia siano uguali in tutti gli indirizzi di studi non vorrei dire una sciocchezza però penso penso anch'io diciamo che tutte le scuole che hanno un indirizzo prevalentemente umanistico valorizzano tendenzialmente di più la storia rispetto ad altre però è veramente è una presenza costante la storia anche un odio costante da parte di alcuni studenti ma lo dico diciamo a ragion veduta visto che sono insegnante anche di storia ma insomma però mi fa piacere che ci sia ancora qualcuno che ama la storia sicuramente c'è un'altra domanda che ci chiedono l'istituto tecnico ha il bienio comune? allora gli istituti tecnici sono divisi in due settori il settore economico e il settore tecnologico corregimi se sbaglio e nel settore economico sono presenti due indirizzi il turistico e l'amministrazione finanza e marketing questi il settore tecnologico ne sono presenti nove di indirizzi per cui è una parte che va approfondita allora quando l'indirizzo è lo stesso il bienio è comune e prevede che poi ci siano le articolazioni a partire dalla terza l'amministrazione finanza e marketing è ha un bienio comune che poi si dirama in tre indirizzi cioè quello che è l'amministrazione finanza e marketing ovvero una volta si chiamava la ragioneria ok poi la RIM l'indirizzo relazioni internazionali per il marketing e sia sistemi informativi aziendali però dovete per avere il bienio unico dovete stare dentro l'indirizzo non dentro il percorso di tecnico e questo vale per esempio per il settore tecnologico biochimico si può fare un indirizzo comune che consente poi di decidere se ci si vuole orientare all'ambito chimico all'ambito biologico sanitario all'ambito biologico ambientale però bisogna stare come diceva la professoressa De Maria dentro dentro per esempio chimica materiale biotecnologie ok allora per specializzarsi in pasticceria o panificatore quale scuola è più indicata allora può essere sia un corso IFP con un quarto anno di specializzazione perché abbiamo visto che i quarti anni sono in numero superiore alle qualifiche proprio perché ci sono delle specializzazioni più approfondite oppure un istituto professionale alberghiero fatemi usare questo termine che abbia all'interno la declinazione del percorso in panificazione e pasticceria ok allora anche lì ricordiamoci che i panettieri lavorano di notte ci sono ci sono tantissime domande io dico anche ai partecipanti che molte domande potranno farle direttamente durante le presentazioni delle scuole specifiche a campus quindi scusateci se non risponderemo magari a tutte questa sera però va vero vi invito a partecipare a campus a seguire la scuola di vostro interesse e a porre i docenti di quella scuola alla domanda specifica ecco grazie facciamo ancora quali sbocchi lavorativi dà il liceo delle scienze umane e che materie ci sono nelle scienze umane e come dicevo prima cioè sono focalizzati vabbè c'è l'italiano e il latino non ho un quadro orario a memoria però so che fanno poi psicologia pedagogia filosofia storia italiano cioè quindi è abbastanza generalista sbocchi occupazionali o è un liceo cioè per cui presuppone che si vada all'università altrimenti non ha uno sbocco occupazionale diretto esatto non c'è uno sbocco diretto c'è una domanda che è questa qui allora la mia professoressa mi ha consigliato il liceo classico però vorrei fare lo scientifico dovrei ascoltare il consiglio orientativo oppure quello che mi piace fare secondo me siamo tra i due cioè non è che qui stiamo parlando di un consiglio orientativo che ti dice di andare a fare un percorso per aggiustare i motorini e tu invece vuoi andare a fare il liceo classico sono abbastanza vicini ok come percorsi e sono sempre percorsi che richiedono un'applicazione uno studio e che sono finalizzati a un accesso all'università per cui se credi di preferire il liceo scientifico fai quello che ti piace se c'è una passione maggiore per le materie scientifiche va benissimo il liceo scientifico ok c'è una domanda una quale indirizzo migliore in prospettiva per lavorare nel settore dell'ingegneria aerospaziale e questa proprio allora non dire liceo classico no no allora vabbè lo sappiamo che con liceo classico però abbiamo anche l'istituto aeronautico della serie se uno vuole vedere se gli interessa questa cosa esistono anche gli istituti tecnici nell'area dell'aeronautica ok se uno pensa di fare proprio ingegneria aereo spaziale allora può stare su un liceo scientifico su un liceo classico che tanto dovrà farsi un mazzo tanto e si abitua per te a studiare come e quanto serve ma se vuole verificare anche questa sua passione beh allora un indirizzo un istituto tecnico aeronautico può essere ideale non sono tantissimi ma ce n'è uno a Milano ce n'è uno discreto verso Bergamo insomma si trovano bisogna considerare ecco scusa metti insieme più domande che riguardano il liceo delle scienze umane no volevo scusa Stefania no volevo soltanto dire che bisogna valutare quanto la passione poi può in qualche modo confrontarsi e reggersi rispetto all'impegno richiesto quindi voglio fare ingegneria aerospaziale ho idea di che cosa vuol dire fare ingegneria aerospaziale se ho idea allora un pochino alla volta andrò a orientarmi verso una certa tipologia di scuole se come dire una passione improvvisamente sviluppatasi ma che non ha proprio conoscenze ben radicate sotto è meglio acquisirle prima di andare a orientarsi sulla scuola superiore provo a mettere insieme due domande che riguardano il liceo delle scienze umane si chiede qual è la differenza nel senso liceo delle scienze umane e poi l'opzione economico sociale in termini anche di prospettiva sì allora stiamo sempre siamo sempre nell'area dei licei per cui in termini di prospettive c'è sempre un percorso post diploma o l'università o al limite un ITS però gli ITS sono molto focalizzati sugli aspetti tecnici e tecnologici per cui questo invece è un liceo che è per nome e di fatto un liceo sociale per quanto riguarda il liceo economico sociale posso esimermi rispondi tu non lo so allora diciamo che allora diciamo che do questa risposta partendo da un vissuto personale essendo un insegnante di lettere avendo fatto liceo classico oggi non consiglierei di fare una scelta che va in modo così marcato verso l'area umanistica perché al momento gli sbocchi non sono così immediati e così certi come diceva professoressa De Maria abbiamo una prospettiva di dieci anni però ecco tra dieci anni non so se l'area umanistica verrà particolarmente valorizzata dalla società che andiamo a costruire sì allora per quanto riguarda l'aspetto economico adesso parte gli scherzi sono un economista per quello che diciamo che l'economia contenuta nella denominazione è superiore all'economia presente nel programma scusatemi se vi permetto l'economia è formalizzazione matematica ok se uno pensa di andare a fare il liceo economico sociale per non fare la matematica capite che c'è qualcosa che non gira giusto dopo di che ripeto va benissimo nel senso sono discipline che è corretto approfondire certo non fanno l'economia dell'indirizzo tecnico economico perché la focalizzazione è sul pensiero economico non sull'applicazione economica essendo un liceo e fanno economia anziché fare psicologia quindi capite che il taglio è diverso come vi dicevo queste finezze le cogliete benissimo guardando i quadri orari e vedendo appunto le discipline che vengono trattate nei vari indirizzi una domanda sul consiglio orientativo se riassumo anche qui delle delle riflessioni che sono arrivate va seguito per forza e se la mia scelta la mia possibile scelta si discosta dal consiglio orientativo come mi oriento allora il il consiglio orientativo è un consiglio ok e di conseguenza è un altro degli elementi di informazione che secondo me va valutato però ricordiamoci di una cosa i ragazzi sono in un'età in cui cambiano molto rapidamente quindi il consiglio orientativo dato dai docenti delle medie si basa su quello che i docenti hanno visto nei tre anni di medie hanno probabilmente visto crescere il ragazzo ma non l'hanno visto arrivare alla fine del suo percorso di crescita mettiamolo in questo senso per cui ripeto è un elemento su cui riflettere ma se poi vogliamo discostarcene siamo convinti beh possiamo anche avere il coraggio di discostarcene c'è un problema il fatto che le scuole superiori dovendo individuare dei criteri per la selezione nel caso in cui ci sia un esubero di richieste sicuramente tra i vari criteri utilizzano anche il criterio del giudizio orientativo per cui tenetelo presente è un rischio ecco mettiamo un elemento potrebbe essere un elemento di rischio di scostarsi molto dal giudizio orientativo però ci mettiamo anche un po' di pepe sale su questa scelta che rischiamo una domanda un po' antropologica come si fa a capire lo stile di apprendimento di un ragazzo di una ragazza beh su questo si esistono dei test ed esistono degli strumenti già molto strutturati quindi diciamo così riprendo un pochettino la domanda che era stata fatta prima quando si diceva facciamo i test forse davvero il test più importante potrebbe essere quello nel senso quello che mi consente di dire come il mio ragazzo apprende più facilmente che non significa che non possa apprendere in altri modi ok però se lui apprende molto facilmente dai libri e noi gli individuiamo un percorso che ha un percorso tutto laboratoriale tutto dove deve mettere le mani in pasta lui sarà sempre spaventato perché lui ha bisogno di avere le conoscenze prima di mettersi in gioco e quindi come facciamo a saperlo ci sono ripeto degli strumenti anche dei libri che si possono trovare ormai sono abbastanza diffusi ma anche una buona osservazione da parte degli insegnanti delle medie questo potrebbe essere molto utile anche dai genitori perché se se sono urla e strepiti e porte sbattute in faccia tutte le volte che si invita a prendere in mano un libro forse ci sta dicendo che non è il caso di puntare sul liceo scientifico sul liceo classico domanda mia figlia vorrebbe fare il liceo artistico indirizzo grafica ma non è sicura di voler andare all'università al termine dei cinque anni potrebbe andare a lavorare con il diploma che conseguirebbe allora il liceo artistico è un'altra di quelle cose da dove nasce se noi pensiamo al liceo artistico di quando andavo a scuola io giurassico va bene però non è anche così lontano nel tempo in realtà non esisteva liceo artistico c'era la scuola d'arte il liceo artistico era in realtà una scuola professionale perché era una scuola appunto dove le cose si fanno questa cosa non esiste più i licei artistici ci tengono moltissimo a rivendicare il loro ruolo di liceo per cui molto studio molte materie teoriche e molto meno parte operativa detto questo mi sembra un chiarimento necessario perché se si chiamano liceo vuol dire che sono fatti in un certo modo io credo che il liceo artistico sia ancora uno sia un percorso liceale che però sviluppa delle abilità specifiche che possono trovare uno sbocco occupazionale o comunque essere facilmente diventare facilmente occupabili attraverso percorsi post diploma cioè basta un anno per imparare al meglio alcuni elementi per poter rispondere delle esigenze lavorative c'è uno sviluppo credo di creatività e manualità che può avere che altri dice sicuramente non ha ok c'era una domanda un po' più generica che diceva e se si sbaglia come dicevamo prima si può avere anche il coraggio di sbagliare insomma però sarebbe meglio ponderare il più possibile la scelta per evitare di arrivare a sbagliare gli errori come dicevamo prima non sono irreversibili però la struttura scolastica oggi non è così flessibile e così adatta a consentire cambiamenti in corsa e comunque ha assolutamente ragione la professoressa De Maria nel dire che un errore può pesare può pesare ripartire rimettersi in gioco portarsi dietro la paura di sbagliare ancora quindi insomma meglio ponderare un po' di più scegliere all'ultimo momento piuttosto che frettolosamente ecco in realtà la normativa adesso facilita tra virgolette soprattutto nel primo e nel secondo anno delle scuole superiori il passaggio voi sapete che c'è stato un periodo in cui si parlava di passerelle queste passerelle poi non esistevano più dal punto di vista normativo scusate se entro nel tecnico però e quindi non si poteva più cambiare in realtà ultimamente c'è stata una revisione normativa che proprio per supportare per evitare che questi errori diventino irreversibili aiuta i ragazzi a spostarsi dal punto di vista normativo perché poi bisogna vedere se c'è posto ci sono tutta una serie di elementi da prendere in considerazione però la strada c'è perché se l'aspetto normativo tende ad essere facilitante ci sono appunto delle problematiche oggettive nell'accesso da una scuola all'altra di cui bisogna tenere conto allora intanto ringraziando tutti per queste domande che sono davvero tantissime facciamo l'ultima domanda possibile ed è questa se si fa un liceo scientifico applicate scienze applicate e poi si scopre di non voler fare più l'università ci sono degli ITS più indicati di altri allora il sistema ITS copre sei aree se volete capire di che cosa si tratta vi basta davvero andare su internet potete andare o sul sito del ministero dell'istruzione perché dipendono dal ministero dell'istruzione o sul sito di indire che è sempre un ente correlato al ministero dell'istruzione che fa la valutazione di tutti gli ITS che ci sono in circolazione e scoprirete un mondo in Lombardia quest'anno abbiamo approvato 150 percorsi ITS nel senso che essendo dei percorsi che sono focalizzati sui fabbisogni delle imprese e su dei profili professionali specifici vengono rinnovati ogni anno cioè quindi hanno una struttura molto diversa rispetto a quella che è la struttura accademica sono i percorsi ITS sono elaborati costruiti e gestiti da fondazioni che hanno al loro interno per legge le scuole le università ma le imprese anche che quindi devono dare il loro supporto nella definizione del profilo e ce ne sono tantissimi di questi profili perché sono di solito legati alle aree tecniche che vanno in continuità alliceo scientifico delle scienze applicate va bene direi che sono le dieci e mezza insomma due ore di attenzione online sono tante e forse anche troppe ringraziamo professor Santini a professoressa De Maria davvero è stato un incontro molto partecipato grazie a voi vi invitiamo a partecipare al campus potete potete rivedere il video della serata sulla pagina youtube del comune di Novate Milanese potete poi appunto seguire campus le presentazioni delle scuole in diretta oppure anche qui potrete rivedere le presentazioni delle scuole sempre al canale youtube del comune di Novate come informa giovani rimaniamo disponibili sia telefonicamente che via email sul sito che vi ripeto www.campusnovate 2021 punto com trovate tutte le informazioni relative al campus tutti i contatti vi ringraziamo per questa serata per la partecipazione e buon percorso di scelta buona scelta a tutti